hai visto senza 11 titolare hai visto come vanno le cose via tornate a roma via basta 2 a 1 l'andata e 3 a 1 ritorno più o meno la stessa partita perché sostanzialmente sono state molto simili non c'è mai stata storia e loro cercano sempre di buttarla in cacciara cercano sempre di fare è sempre casino quello è quello che cercano di fare i giocatori della roma il suo allenatore come squadra quando giocano contro di noi almeno io ho visto le due parti col Milan così ma anche le altre non è che vanno tanto lontano ma noi oggi parliamo di queste perché noi milanisti siamo contenti e detto questo buonasera a tutti ragazzi e bentornati sul canale dal vostro amico Naic nella casa del pane e Balun mai stasera come mai come stasera la casa del pane e Balun ragazzi che dire che dire è una partita molto sofferta iniziata poi con tutte le diciamo gli imprevisti del caso il covid e prima Tataruzano e poi dopo l'altro che non è stato nominato gli ultimi tre ieri sera e i due giocatori in Coppa d'Africa ragazzi 11 titolari assenze ma dove vogliamo arrivare così dove vogliamo arrivare e invece invece i ragazzi ci hanno messo il cuore ci hanno messo il cuore hanno fatto una partita veramente veramente bella ma il primo che mi viene in mente uno su tutti è Tonali mi è piaciuto tantissimo Florenzi e diciamo ma Tonali proprio mi ha impressionato mi ha impressionato ha preso in mano le redini del centrocampo e ha dettato tutti i tempi ragazzi e con le assenze che c'erano non era veramente semplice perché loro in avanti con Zagnolo e Abrama sono veramente forti è vero che in difesa sono un po' così e così però insomma in attacco facevano paura e con la difesa del Milan di questa sera si poteva rischiare veramente tanto invece ragazzi io non ho visto non mi sono mai sentito in pericolo mai mai sì poi magari nel momento della partita nell'euforia vedi magari pericoli dove non ci sono perché quando parti con non favorito e ti trovi in vantaggio poi ti aggrappi a quella vittoria e te la vuoi portare a casa e allora poi vedi pericoli anche dove non ci sono da tifosi però devo essere sincero adesso a mente lucida qualcosina l'ha fatta la Roma per l'amor di Dio però cose molto confusionare in avanti a buttare palloni ma con i giocatori che hanno con la classe che hanno secondo me potevano fare molto molto di più con questa difesa del Milan e invece ragazzi la Roma è questa non sto neanche a parlare della Roma la cosa che non mi fa impazzire ripeto perché poi dopo prendendoli singolarmente i giocatori sono anche forti e ce ne ha di forti veramente tante Abram è uno di quelli c'è il Zagnolo c'è insomma il capitano Pellegrini Mancini in difesa e quello che non capisco è il perché tutto questo nervosismo tutta questa questa rabbia tutta questa sempre cercare di mettere le partite sul piano del nervoso del litigare è così perché la Roma ogni qualvolta gioca con una squadra e non la vede come stasera e come all'andata anche per cercare di sparire le carte la butta in cacciara e quasi sempre ci riesce perché anche oggi l'arbitro secondo me ragazzi l'arbitro non è riuscito a tenere in mano le ridine della partita non si può finire un primo tempo con dieci falli della Roma e uno del Milan insomma ma ragazzi ma non si può ragazzi poi io devo sinceramente sono contentissimo perché sono tre punti ragazzi ma tre punti che pesano come un incudine ragazzi pesano come un macigno tre punti con questa formazione contro la Roma è tanta tanta roba oggi io se si riusciva a uscire da San Siro con un pareggio ero già quasi contento figuriamoci con tre punti e con una prestazione del genere complimenti ai ragazzi complimenti veramente veramente tanto perché ci hanno messo tanta tanta anima sì poi voglio dire qualcosa così e così su Gabbia c'è ancora da dire qualcosa mi spiace però in questo momento non voglio domani poi penseremo alle pagelle faremo le pagelle però in questo momento voglio veramente dare merito a tutti i ragazzi perché hanno fatto una grande vittoria una grande vittoria sofferta forse all'inizio del secondo tempo qualcosina i primi cinque minuti no poi dopo è uscita un po' la Roma per 10 12 13 minuti ci ha messo un po' là sempre in maniera un po' così però era era sempre lì diciamo sulla nostra tre quarti poi dopo siamo usciti ancora noi insomma sostanzialmente non c'è mai stata partita sia nel primo che nel secondo tempo il loro gol è arrivato da un calcio d'angolo dove noi continuiamo a fare errori su errori perché anche quel calcio d'angolo lì una volta che la butti fuori insomma ragazzi sali crunic cosa rimani lì ha tenuto in gioco il giocatore insomma se lui sale e segue tutta la difesa che è salita ma poi è anche semplice perché lui essendo ultimo uomo li vede che sono saliti deve seguirli perciò vabbè detto questo è uscito fuori questo gollettino qui sì qualche tiro con deviazione dove Magna hanno dovuto fare delle belle parate che poi comunque ne ha fatte di fare non è che la Roma non c'è mai stata però per me è una vittoria sostanzialmente strameritata stradominata la partita dal Milan in tutto e per tutto a parte quei appunto 12 13 minuti del secondo tempo ma per il resto è stata giocando veramente veramente bene vinta a centrocampo non c'è stata mai partita Tonale non mi ha fatto impazzire crunic ha fatto il suo lui è sempre diciamo abbastanza ordinato anzi a volte quando vuole fare qualcosa sopra le righe non gli viene mai perciò lui deve fare sempre il compitino e quello lo fa bene però diciamo che Tonale sostanzialmente ha tenuto in mano il centrocampo del Milan l'ha tenuto proprio in mano e poi perché poi ragazzi sale e me che non mi ha fatto impazzire insomma mi è piaciuto tantissimo Messias Brian Dietz ha sempre sempre quella cosa lì che tiene un po' troppo la palla però vabbè ripeto ragazzi non diamo voti adesso siamo contenti della vittoria sono stati bravi ragazzi godiamocela gustiamocela perché tra tre giorni c'è un'altra partita e non penso che recupereremo giocatori perché voglio dire il covid è quello perciò non penso che da qua a domenica che mancano tre giorni recupereremo perciò godiamocela godiamocela bene cerchiamo di non buttarla magari buttando via la prossima che è a Venezia contro il Venezia che non sarà facile neanche quella detto questo ragazzi io vi chiedo assolutissimamente di iscrivervi al canale di rimanere sempre aggiornati col mio canale ragazzi mettete un bel like al video e condividetelo con altre persone così almeno altri mi conoscono e se vogliono far parte della nostra comunità si aggregano detto questo ragazzi vi auguro una buona serata ci vediamo dopo che commenteremo la partita tra Napoli tra Juve e Napoli se si gioca adesso andrò a vedere detto questo ragazzi ciao